Ma guarda Sandra, mi sa che gira e rigira, in ogni caso non sarebbe cambiato niente. Noi siamo fatti così come siamo fatti, va bene la vita che stiamo vivendo, le cose che abbiamo fatto, le cose che stiamo facendo. Ma sì Raymond, sai che hai ragione? In fondo è meglio che le cose siano come sono. Sì, meglio la nostra vita così com'è, meglio questa casa, stare così soli. Se cerchi i biscotti, zia Vivian, li hanno scosti qui. Il lavandino è rotto, sto cercando di ripararlo. Aspetta, aspetta, non farlo, Jeffrey non ha più le ciglia da quella volta che hai cercato di regolare i forrelli. Così ti sono vicina No, usci, più forte, no no, la voce. Ancora? Non basta, più forte se no non esce. Morandi! Amo la vita più che mai Fili? Anch'io avrei sete, caro. Robert, le prendi qualcosa da bere visto che sei lì e passami anche un po' di burro. Il frigorifero non apre bene, vuoi che provi a ripararlo? Fa pure, ma secondo il tecnico va cambiata la cerniera. Oh, show me that smile. Don't waste another, leave it on your crying. We're nowhere near, we're nowhere near. The best is ready to begin. Eh, papà, c'è un tuo paziente. Mr. Baudwell. Ha un costume meraviglioso. Le devo parlare, dottore. Non doveva andare a fare Babbo Natale all'Orfano Troppo? Sì, ma proprio io non me la sentivo. Sei uno di quelli che è in casa di più in assoluto. Che effetto ti fa essere il mostro sul serio? Mostro sul serio? Il cinema italiano lo sei. Ma no, ma no, perché sai, io ho sempre avuto questo aiuto di maccanico che mi ha un po' tirato su. Non è tutto oro quel che riluce. Io non, senza maccanico, se non mi avesse spinto lui, non sarei riuscito a fare quello che sono riuscito. Quindi, fino a quando terrei quei capelli, quei vestiti e il teledrine, voi non uscirete di casa. Buonanotte. Buon divertimento, ragazzi. Ma non capite che stanno subdolamente cercando di dividere l'opinione pubblica? Malcolm X ci aveva messo in guardia. Prendiamolo. ...con l'ausilio del computer. E l'impresa non è di poco conto, visto che la voce americana di Woody è niente meno che di Tom Hanks. Toy Story, lo ricordiamo, uscirà in Italia il 22 marzo prossimo e accanto a Frizzi ci sarà Massimo D'Apporto, doppiatore di Buzz Lightyear, l'altro protagonista della storia. Spero che la mia avventura sul grande schermo continui. Ho già qualche proposta, ha detto Frizzi. La Disney, inoltre, vuole produrre tre film all'anno fino al 2000. Tra i titoli in programma, Il Gobbo di Notre Dame, Bugs, Ercole, Tarzan e A.I. ...pronto? Pronto? 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 Stupenda! Ciao Maria! Stupenda! Sei una contottrice con i controcosi, te lo dice Raffaella. Maurizio, che dolce! Franco, che caro, con la tua rosa in mano. Allora, eccola qua la piccola Jessica, hai una pelle di porcellana. E' bell'età, 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 se c'è silenzio nel tuo amore, nel tuo amore... Attenzione! Hey! L'orologio a parte di luna, tu sei fuori chissà dove, c'è un nudo per la casa, Dimmi tu sei questa vita Tu che esci con le amiche Dici Tu che non so per smettare Eccola E' quello non venire C'è un bombatti Mister fantastic Mister bombatti Devo dirla Che di fronte a un fatto così poco sublimale Come la musica leggera Comunemente viene descritta Come una sorta di girone dei dannati Grazie Amici, amici Grande apprezzione fra i partiti Per questa delicata fase politica Sì, hanno tutti paura che nel chiudere le camere Scalfaro si dimentica i dentrodini Il dottor stranamore Alberto Castagna Buonasera Buonasera Ciao Alberto Caratella Sei stupendo, meraviglioso, eccezionale La credza di seguirmi Caratella la Lorella Ma che piacere Ma ti insegno un trucco Lorella Guarda La mano Sì Mai qua No Accorcia la coscia Allora cosa dobbiamo fare? Su qua Ok Così ci allunghiamo di più? Perfetto Allora adesso facciamo la breve pausa Noi ci vediamo dopo per il corpo a corpo Corpo a corpo Sarà un po' difficile così Primavera sia alle porte C'è un personaggio Anche se a Milano non piove Che va in giro sempre con l'impermeabile Ma il problema è che lui l'impermeabile Lo porta per mestiere Ha capito lo squalo Primavera Tocca a te Tocca a te Dai Eccolo qua bambine Ecco il vostro papà Eccolo qua Che cosa state facendo? Ti prego Ti prego Lasciaci continuare a giocare Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Sai una di noi deve mimare E l'altro deve indovinare il film Capito? Non sia mai che il papà interrompa Un momento ludico Così importante Per la crescita Delle mie bambine Ma è vero che se uno Baccia una donna sulla bocca Nasce un fratellino? Se dipendesse da un bacio Se non mi ammi Dimelo io Io sono pronta a tutto Ha detto sì Non ti amo Non sono pronta a tutto Che sarebbe quella freccia così grossa? La freccia dell'amore E potete che ci facciamo Abbracciati sotto un tavolo? Ma non è che ha ragione lei E ti sei sognato tutto Si bacia Ma sognate No perché lui ha perso Caro maestro Venerdì 8.40 Scanale 5 Come si chiama lei? Dove si trova adesso? Io me butto di sotto Sono un coppo a cornicione most Ciro si butta Chi? Ciro? Ciro? Dove? Oddio Ciro? Ciro, Ciro Dimmi un po' come la va Quando saremo a Reggio Emilia A me Murusa sarà in piazza Ma bella Io sei arrivata E per te I miei occhi chiuderò Per un istante morirò Non avrò vissuto mai prima E nuove notti E nuove giorni In giro C'è stato E' nato Il Festival di Sanremo Ha capito? E lei se l'è perso E chi l'ha vinto? Tutti Nilla Pizzi Aghile Togliani Domenico Modugno Quest'anno ha vinto uno piccolo Bravissimo Chi ne passa da c'è Regarde-moi Milo Vu m'avez jamais vu M'avez vu pluré Milo Se ch'leuré jamais cru Bello Questo si Bello impossibile Oh finalmente l'hai capita E mica sto nascemaneta